Siamo con il Presidente Luigi Zapatesi Siamo con il Presidente Luigi Zapatesi Il Presidente Luigi Zapatesi Il Presidente Luigi Zapatesi Si sarebbe potuto concludere meglio se all'inizio del campionato qualche partita avessimo portato a termine positivamente purtroppo non è stato così però attenzione, stiamo parlando di un obiettivo perseguito dalla società e da questo splendido gruppo di ragazze che è la permanenza in Serie A il quarto anno di Serie A con la permanenza ottenuta sarebbe un fatto storico perché non c'è nessuna squadra in Italia a essere stata per quattro anni perseguita in Serie A vuoi perché sono saliti da uno, vuoi perché sono retrocesse vuoi perché sono completamente scomparse e qui lasciatemelo passare tutto quello che vedete, tutto quello che vedono i nostri splendidi sposi non è una cosa normale e quindi dobbiamo stare insieme ancora per molto tempo, noi ce lo auguriamo noi siamo fermamente convinti le ragazze lo sono ancora di più infatti la dimostrazione è che 3-3 a 0 consecutive rappresentano per questa squadra dei miracoli con record grazie mille e buongiorno grazie a voi grazie a voi